Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, questa sera concerti a Capannelle per Rocchi Roma e a Caracalla con Venditti. Il trasporto pubblico per questo doppio evento è su romamobilita.it. Oggi e domani le metropolitane seguono l'orario prolungato con le ultime corse da capolinea all'1.30 di notte, orario lungo anche per la metro A. I lavori serali che stanno interessando la linea il venerdì e il sabato infatti sono sospesi. Concluso il servizio delle metro, come ogni notte, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus N. Sempre il venerdì e il sabato, orario lungo anche per il tram 8 da Piazza Venezia, ultima corsa alle 3.30, dal casaletto alle 3. Grazie a tutti.